Quest'anno il numero record di giornalisti detenuti nel mondo. Sono ad oggi 488. A rivelarlo è l'annuale bilancio dell'ONG Reporter Senza Frontiere, che riconosce come il 2021 sia stato l'anno nero per i giornalisti condotti ingiustamente in carcere. Un numero mai raggiunto da quando è stato stilato il primo rapporto nel 1995, di segno opposto. Invece il numero dei professionisti dell'informazione assassinati, 46, rispetto a omicidi sempre più frequenti negli anni passati, per motivi che, secondo il dossier pubblicato a Parigi, sono dovuti alla relativa stabilizzazione del Medio Oriente negli ultimi mesi. La somma delle reclusioni invece in un anno è aumentata del 20%, spinta dalle tensioni in Myanmar, Hong Kong e Bielorussia. Emerge anche il numero delle donne imprigionate, 60, nella triste classifica dei paesi che detengono più giornalisti nelle proprie carceri Cina, Myanmar, Vietnam, Bielorussia e Arabia Saudita.